Mi hanno detto che stai intrasciando il lavoro, che stai distrubando, che stai facendo film. Allora, io ti dico solo questo. Se tu vuoi stare qua perché ti viene bene, ci puoi stare. Devi lasciare lavorare la persona. Non puoi ossessionarti contro la residenza, contro di me, in urgencias. Se no cosa fai? Se no chiamo la guardia civile. Non ti faccio entrare.